E' stata pubblicata la graduatoria definitiva degli interventi di valorizzazione di aree protette e per questo di rilevanza strategica. In testa per l'area dei Nebrodi c'è la valorizzazione del sentiero della Grotta dell'Auro per la promozione e lo sviluppo del territorio di Alcara di Fusi per 335 mila euro. Segue sul versante ionico la valorizzazione della rete sentieristica di collegamento tra la riserva naturale orientata Fiume di Nisi e Monte Scuderi e il sentiero Italia-Regione Sicilia-Mandanici per oltre un milione di euro. Poi la riqualificazione del Monte Castello di Francavilla di Sicilia per 735 mila euro. Questi sono gli unici tre progetti ammessi e finanziati. Sono poi ammessi ma non finanziabili per carenza di risorse l'incremento della fruibilità delle aree naturali di collegamento del parco fluviale e delle gole dell'Alcantara-Motta-Camastra, il potenziamento della rete di fruizione dell'area del Catafurco, De Borghi Molisa-San Giorgio e la riconversione della casa di prima accoglienza e funzioni ecosistemiche forestale di Galatima-Mertino ed il restauro del semaforo di Pollara-Malfa per la realizzazione del panopticon, museum, mari, vulcani e stelle dell'arcipelago eoliano. Oltre alla graduatoria dei progetti non ammessi per carenza di risorse, c'è anche quella dei progetti che non hanno raggiunto il numero minimo previsto dal bando, ma non si esclude che questi possano essere stati inseriti positivamente in un'altra linea di finanziamento.